Questo film, dopo ben dieci anni dal primo ma ne valsa la pena, ha visto la casa di produzione Dreamworks mettersi in gioco con animazioni veramente ricercate, soprattutto nelle azioni di combattimento. E non solo dal punto di vista grafico interessante, ma soprattutto dalla costruzione della morale che c'è dietro tutta la narrazione videografica. Ho apprezzato anche la caratterizzazione dei personaggi, molto adulta, ma soprattutto quel senso di maturità e malinconia che mancava nel primo film. Va visto senza sé e senza ma.